ragazzi e queste sono le mie risposte avete visto l'ultima pescata che ricciola spettacolare che ho catturato queste sono le mie risposte tutti quanti mi criticano, tutti quanti mi denigrano e queste sono sempre le mie splendide risposte che spettacolo ragazzi una cattura strepitosa cercata, voluta in un mare pieno di pesca sub con gli scooter in un mare calmo come l'olio dove non girava veramente quasi nulla cercavo qualche bella preta, l'ho cercata ed è stata veramente meritata un'azione di caccia veramente spettacolare ragazzi bella, bella veramente grazie di cuore a tutti grazie di cuore al mio adorato mare grazie di cuore alla mia adorata partner che mi accompagna sempre nelle mie avventure marine veramente, quanta gratificazione e quanto orgoglio a quest'età che tanti mi puntualizzano ma per me è veramente un orgoglio per me 50 anni non sono 20 anni magari per questi che credono saranno dei cyborg a 50 anni qualcuno mi ha detto che ce n'ha più di me complimenti a voi, io non mi sento un cyborg non ho tanta esperienza ma sono tutto acceccato e francamente sono orgoglioso di quello che riesco ancora a fare a quest'età complimenti a voi se siete dei cyborg io non lo sono proprio e non dimentico che a 20-30 anni veramente ero una vera ruspa marina e ora le mie risorse fisiche sono veramente a 10% rispetto ad allora anche se c'è un bagaglio di esperienza che non passa inosservato sott'acqua e questo fa molto, fa molto oggi per compensare quello che mi manca tanto nelle risorse fisiche va bene ragazzi, boom blue oggi ci riprovo, non si sa mai anche perché questa serenità d'inverno è una cosa da non sottovalutare per noi pesca sub è una cosa bella e fa stare bene in acqua perché poi d'estate arriva tutta quella bolgia che ci dispone parecchio ciao 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 Grazie a tutti. 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 e vai... Gioia... Grazie a tutti. Grazie a tutti.